Ciao sono Luna Rosa e oggi volevo mostrarvi queste simpaticissime tazzine la tazzina che sorride e la tazzina che strizza l'occhio come potete vedere abbiamo anche il coperchio per mantenere il caffè al caldo e con questa bellissima immagine delle tazzine sorridenti auguro a tutti una buona serata e un buon inizio di giornata per domani ciao a tutti da Luna Rosa